Rieccoci a Primo Sinterpares, l'appuntamento del bisettimanale perché è venuta dal mercoledì, questa sera giovedì ovviamente che segue, perché seguiamo con molta attenzione appunto le votazioni che si svolgeranno fra le decine di giorni per quanto riguarda il referendum, il Presidente della Regione e anche le varie amministrative nei vari comuni di Padova, Venezia compresa. Ci sono tutti gli ospiti, non è intervenuta e non ci ha avvisato la candidata di Italia Viva, la Daniela Sbrollini che era stata invitata, ci aveva risposto per i mail che avrebbe partecipato, non sappiava il motivo per cui non è venuta ed è giusto ricordarlo, quindi la sedia che vedete vuota e che ogni tanto verrà inquadrata, eccola lì vicino a Bisatto, riguarda appunto il candidato alla Presidenza della Regione Veneto, Daniela Sbrollini di Italia Viva. Detto questo per correttezza inizia questo giro Lavanda Pelizzari, che è bella battagliera la Lavanda Pelizzari e questo tema sono le infrastrutture Lavanda Pelizzari. Allora in Veneto, tanti dicono, il Presidente Zai non ha fatto nulla, io faccio un esempio per tutti, noi abbiamo il terzo aeroporto d'Italia e non c'è un treno che arriva all'aeroporto, sembra una metropolitana, è una chiamata da quello che volete, noi abbiamo il terzo aeroporto d'Italia e lì non arriva mai nessuno e quindi nessun mezzo ovviamente su ferro tipo il treno o la metropolitana. Ho fatto questo esempio perché davvero trovo assurdo che il Veneto non abbia questo. A livello di infrastruttura Luca Zai ha fatto tutto bene negli dieci anni che ha governato il Veneto e che progetti avrà nei prossimi se vincerà come sembra la candidatura Presidente della Regione? Ma io credo che sia sotto gli occhi di tutti quello che il nostro Presidente Luca Zai ha fatto in termini anche e non solo di infrastrutture, molte cose sono state fatte, intanto la Pedemontana che non è mica finita, vabbè però gli ultimi 15 chilometri sono stati, manca ancora un po', vabbè però intanto, oltre alla Pedemontana cosa ha fatto il Presidente della Regione del Veneto? Ha fatto tante altre cose, me ne dica un paio, in questo momento non mi vengono in mente perché lui le ha scritte tutte sul suo libretto, me lo sono dimenticato a casa perché sono tante, ha portato a casa, se non era l'infrastruttura, ha portato a casa le Olimpiadi dopo 70 anni a Milano e Cortina Milano, ricordiamolo questo perché non solo saranno le Olimpiadi, ma le Olimpiadi che daranno lavoro, che faranno infrastrutture, che daranno veramente una bella sferzata di denaro e di lavoro, ricordiamo che chiaramente anche Belluno che prima ricordava che magari Belluno non è stato fatto tanto, ma siamo stati noi dopo 70 anni, perché le ultime sono state fatte 70 anni fa, quindi quello che sarà fatto in prospettiva anche delle Olimpiadi sarà un grandissimo lavoro che darà economia, che farà partire l'economia anche nelle zone che sono in questo momento particolarmente dimenticate, non dimentichiamo che è riuscito a portare il Prosecco come patrimonio dell'umanità, ricordiamo quanto lavoro sta dando tutte le colline del Prosecco, quindi sta dando lavoro a tutti e queste sono, poi non ho sotto mano tutto perché l'elenco è talmente lungo che insomma dovrei leggerlo. Sì, ma io parlavo pelizzari delle infrastrutture, non del vino, il vino c'era già, cioè parlo a livello di strade, a livello di ferrovie, a livello di queste cose, ma no, lei ha detto che ha fatto molte cose, sulle ferrovie ci sono grossi progetti, ci sono grossi progetti che verranno attuati adesso. Io le ho fatto la domanda, lei mi ha risposto, quindi ci sono molte cose, ha riuscito a casa il folito, quindi se mi dice Venturini cosa è stato fatto, nel ragionamento per quanto riguarda le infrastrutture e cosa si farà, è la domanda che ho fatto ovviamente alla pelizzari. Sì, un intervento che era necessario e che è stato fatto dal Presidente Zaio sono i bacini di laminazione. Noi veniamo dal 2010, ero vissuta in prima persona nel mio comune, l'alluvione, dove non è mai stato fatto niente per quanto riguarda i corsi d'acqua. C'è stata un'incuria, ma vuoi anche per un fatto di, secondo me, mancanza di attenzione, di sensibilità nei confronti dell'ambiente e soprattutto dei corsi d'acqua. Dal 2010 con l'alluvione è come se ci fosse stato uno shock, per cui tutti abbiamo preso coscienza che era necessario intervenire sui corsi d'acqua e quindi è stato fatto questo intervento importante di bacini di laminazione che mettono in sicurezza dal punto di vista idrogeologico. Sicuramente altro c'è da fare per mettere in sicurezza la nostra regione perché ci vogliono miliardi, però l'importante è iniziare e quindi a partire dal 2010 sicuramente un cammino è stato intrapreso. Ma mi viene da dire, un mese fa circa è stato approvato il piano regionale dei trasporti. Ora, quello è un documento di pianificazione importantissimo per la nostra regione perché è da là che noi dobbiamo iniziare ad investire risorse e spero che queste risorse che arrivano anche dall'Europa possano essere finalizzate. C'è stato un accordo tra il sindaco di Padova, il presidente della regione e il ministro, però è tutto da verificare che poi si avverrà. Allora, e qui vengo, noi adesso andiamo ad eleggere il presidente, giusto per chiudere. Tutti, vedi qui prendo il sindaco di Padova che è di una certa parte, il presidente che è di un'altra, il ministro di un'altra, tutti si sono uniti per fare questo, chiamiamolo, bel ragionamento, ma dal dire al fare non l'oceano, c'è di mezzo tanto mare. Allora bisogna che i telespettatori riescono a capire anche questo. Quindi posso chiudere il ragionamento? Allora, al tempo, certo. Sì, e qui vengo al dunque, quindi noi abbiamo degli strumenti adesso di pianificazione, vedi il piano regionale dei trasporti, però noi abbiamo bisogno di amministratori che seguono sul territorio, noi abbiamo un presidente della regione che è di Treviso, abbiamo l'opportunità di eleggere dei rappresentanti del territorio, lo dico i padovani, quindi i padovani hanno l'opportunità di eleggersi dei consiglieri regionali che sono padovani, che conoscono la realtà padovana e che possono seguire pedissequamente gli interventi da fare sul territorio facendo squadra. Perché poi è vero, sulla carta si dicono tante cose, ma lo dico per esperienza di amministratore, tu devi essere sul pezzo quotidianamente per capire poi come quelle azioni che sono sulla carta possono essere tradotte sul territorio ed impiegare le risorse. Perfetto, nel raggiungere io le do anche una sviolinata Elisa Vintonia, lei poi le darò per la parcondicio anche a Bisato, lei quando è stata sindaco di Casalserugo, visto che ha parlato proprio di alluvioni dove il suo paese è davvero andato sotto acqua, tutti gli abitanti di cui noi abbiamo seguito con molta attenzione i nostri telegiornali, erano felici del sindaco Venturini perché quando sono arrivati i soldi lei persona per persona li ha dati, quindi ha un grande merito per Casalserugo e il paese di vicino, è davvero che ancora oggi me lo ricordano quando parlavo di lei, quindi complimenti perché ha mantenuto le promesse fatte per i propri cittadini nel periodo in cui era sindaco a Casalserugo. Poi faccio i complimenti anche a Bisato e ci mancherebbe. Allora, Pinto invece, per quanto riguarda le infrastrutture. Sono molto d'accordo su quello che diceva sul precedente intervento perché credo che la realtà locale, il seguire i problemi locali sia importante anche per chi si candida a Venezia in realtà ma che poi lavorerà sul territorio. Si parlava di infrastrutture, a parte che, apro e chiudo una parentesi, citare la Pedra Montana come un grande successo di infrastrutture da parte di Zaia, credo sia una cosa che farà brividire, cioè costerà più di dieci volte quello che è stato preventivato, dura da una vita, quel poco che è stato aperto la settimana scorsa è stato anche lagato, quindi direi che è un grandissimo successo, non mi sembra. Ma se parliamo invece di realtà locale, se permette mi ricollego a quello perché mi interessa molto, tre giorni fa nella zona da dove provengo c'è stato un forte acquazzone, una bomba d'acqua e ha lagato parecchie case. Tanti cittadini hanno avuto molti danni. Quando ero consigliere nel 2014, nello stesso paese è accaduta la stessa cosa, presentai un'interrogazione, non polemica, chiedendo se la mia amministrazione era a conoscenza della realtà delle fognature, soprattutto bianche, del mio territorio, perché la cementificazione è stata intensa negli ultimi 20, 30, 40 anni, mentre invece non c'è stato alcun investimento su quelle che sono le tubature che poi portano l'acqua che arriva dal cielo. La risposta fu, inizialmente non lo sappiamo, la seconda risposta è che bisognerebbe fare degli interventi, non abbiamo i finanziamenti, non ci sono i soldi, non c'è il patto. Questo per dire che se continuiamo a costruire ma non c'è nessun intervento che vada a risolvere le problematiche legate all'ambiente, legate agli acquazzoni, legate al fatto che ci sono parcheggi, supermercati, nuove costruzioni, comunque non parleremo anche dopo, se non ci sono investimenti su questo i problemi continuano. E io vorrei sapere perché la Regione Veneto in dieci anni di governo Zaia e in vent'anni trenta di governo centro-destra, questo tipo di investimento, questo tipo di prevenzione non l'ha fatto. A me piacerebbe sapere questa cosa qua. Bisatto. Guardi, la riflessione che faccio io è questa. Dieci anni di governo con una maggioranza molto significativa, che quindi non può mai appuntarsi il non aver fatto perché non aveva i numeri per portare avanti le iniziative, non ha tanti elementi da poter essere ricordata come un disegno per il futuro. La Pedemontana è una grande opera pubblica che deve essere completata perché altrimenti diventa un bucarellare il territorio e lasciare di chilometro in chilometro cantieri mezzi andati e mezzi fatti, però ha soprattutto un limite che è finanziario ed economico. Per vent'anni imballerà il bilancio della Regione del Veneto. Alla faccia che noi amministratori dovessimo anche essere eletti andremo ad incidere per fare qualcosa a livello locale, non c'è nulla. Non si può spostare un fiammifero. Tre quarti della spesa è in ambito sanitario, gestiti con trasferimenti dallo Stato e il resto è bloccato dal contratto di somministrazione che era nato come project financing della Pedemontana. Cos'è che bisognava fare? Bisognava non lasciare i sottopassi già fatti e i parcheggi già fatti della metropolitana di superficie, che in termine difficile è SFMR, che sono fatti da vent'anni, sono sulla carta e mai completati, che velocizzerebbero il trasporto non su gomma ma su ferro in dieci minuti da qua a ogni quarto d'ora verso Mestre, verso Castelfranco, verso le Radiali. Bisogna raddoppiare la ferrovia che porta verso Verona per la velocità dei trasporti e per la velocità dei trasporti dei passeggeri. Bisogna fare, permettetemi che mi ricavo altri dieci secondi, visto che prima sono stato veloce oltre altri, gli interventi sui bacini di laminazione, vero in parte quanto dice la collega Venturini, perché sono sulla carta da trent'anni, dal Paus ce lo dice da trent'anni, in provincia di Padova il Muson dei Sassi non è mai partito il lavoro e soprattutto c'è una grande opera da fare qui in provincia di Padova che è il completamento della Padova Mare. 500 milioni, tanti. Bisogna però fare i progetti per cercarli e per farla, altrimenti il tempo di ritorno dei 50 anni con il rischio di andare sott'acqua come è successo nel 66 e nel 2010 è di lì dietro l'angolo ogni volta che piove un po' più del minimo. Allora Luciani, ora sulle infrastrutture, io sento parlare, sento l'apriciario, sento di voi, ci sono molte cose che non ricordate, tutti non ricordano, cioè davvero io non vi chiedo cosa è stato fatto in questi anni per il Veneto oltre la Pedemontana che purtroppo è costata, perché non riesco a avere un'idea molto chiara. Le grandi infrastrutture in Italia sappiamo i tempi che hanno, cioè sono tempi biblici e quindi da questo punto di vista i cittadini sanno benissimo che quando si vogliono fare grandi infrastrutture ci vogliono decenni. Mi viene in mente la statale del Santo di Padova che mio papà quando era piccolo aveva 6 anni si ricordava che andavano a prendere le misure, poi le abbiamo viste 50 anni dopo quella strada. Allora partiamo dal presupposto, cioè il Veneto sta pagando il Dazio, pesantissimo Dazio, di non avere l'autonomia. Cioè torniamo sempre lì, perché su questi temi, adesso sul disesto idrogeologico, io da assessore si ricorda direttore gestivo, tutto quello che erano appunto la gestione delle acque. Era EFLUE, avevo proprio la delega specifica al Consorzio di Bacchiglione e su tutti questi temi, su tutti gli investimenti che vanno fatti si vogliono grandi cifre. Al Veneto pensate che per risolvere tutti i problemi di disesto idrogeologico servivano 5 miliardi di euro. E sistemiamo l'intero Veneto. È chiaro che con il patto di stabilità che ricordava prima il collega del 5 Stelle, con tutta una serie di lacci e lacetiche. Questo Stato mette nei confronti anche del Veneto, che ha sempre comunque dimostrato di saper governare bene, perché qui abbiamo due ex sindaci, sia uno del PD sia l'altro di Forza Italiana, nel loro paese sono considerati e sono ricordati benissimo, perché hanno governato nel migliore dei modi. Ma sanno benissimo entrambi, dico due fazioni diverse, io ho governato la città di Padova in qualità di sessore, che abbiamo. È sempre comunque dei limiti di spesa impressionanti. Abbiamo una marea di soldi a disposizione che non possiamo spendere, perché qualcuno non si comporta bene nel resto del paese. Le faccio una domanda di seguito, tolga la parte. Allora però io mi accorgo, faccio un esempio. Il ponte di Curtarolo è un ponte che, ve lo spiego perché in tutte le altre termini, ogni volta che fa parte la provincia, però potrebbe dare una mano alla regione, aiutatemi, tutti mi dicono che è un ponte pericolante. I meggi pesanti devono passare a velocità limitata. Allora mi chiedo, se quel ponte casca, lo dico in dialetto veneto, di chi è la responsabilità? Poi guardo, per il fatto burocratico, che a Padova, indipendentemente dalla parte politica mi creda, c'è un ponte che sta crollando e in un anno lo cambiano. Pagliamo quello di Vigonovo, il ponte di Vigonovese, giusto? Mi correga se dico. Allora mi chiedo, perché da una parte c'è un ponte che tutti i sindaci, visto che la Venturini ne fa parte, dicono che è un ponte pericolosissimo, che potrebbe cadere, lo dico lentamente, nessuno prende delle situazioni e se domani quel ponte casca, lo dico in dialetto veneto, cosa succede? Di chi è la colpa? No, no, ma sicuramente, ma l'infrastruttura... Disponete perché col ponte potrà cadere, di chi è la colpa? Il presidente della provincia, dei sindaci, di chi è la colpa? Hanno sempre un nome e cognome, lo sappiamo che esistono le strade provinciali, le strade statali, le strade regionali e ognuno ha la propria competenza. Su quel ponte si sa benissimo di chi è la competenza, però il tema è che fosse anche del comune, il comune è in grado di curto ruolo di affrontare una spesa di alcuni milioni di euro? No, ma le province... Allora, l'unico modo... Aspetta, le province, per ricordare, non hanno la provincia, non ha più i soldi di una volta diventata... Le riforme, le grandi riforme che ha fatto il Partito Democratico, che ha riformato le province cercando di far finta di cancellarle, togliendogli i soldi, cioè questa è stata la grande soluzione delle province da parte del centro-sinistra. La classica semplificazione... Volevo anche rassicurare, perché se no, voglio dire, parliamo, se no via riforma, io ho fatto senza far baruffa... Posso far baruffa? No, ma io voglio rassicurarti che... Vado a penizzare lei fuori, non deve intervenire, perché davvero le metto un cerotto. Il concetto è questo, io stavo... L'ho ridotta, se casca quel ponte, se cade quel ponte, muoiono delle persone... I veneti devono sapere... Ho capito, ma qualcuno deve fare... Ma il più grande piano, Marshall, sulla sicurezza è stata fatta dalla regione Veneto, il più grande piano, Marshall, è stato chiamato a livello nazionale, sulla sicurezza dell'infrastruttura, è stato fatto in Veneto. A lei mi lasci finire, se cade quel ponte, lo dico perché... Facciamo anche l'abbiamo. Ditemi voi di chi è la responsabilità, non lo so, però se cade quel ponte, che tutte le trasmissioni che abbiamo fatto per le regionali è venuto fuori in quel ponte, se cade quel ponte dove tutti hanno detto che è pericolante e muore della gente, io li metto in galera, tutti li butto via le chiavi, ha capito, dal Presidente, chi ne sa, chi più ne metta, al Presidente della provincia, chi è responsabile, va detto in galera, non ne viene più fuori, perché quel ponte è un anno che sento dire che è pericoloso e se è pericoloso che può cadere e può fare delle vittime e dei danni, quel ponte va sistemato, si trovano i soldi, questo vuol dire, indipendentemente da chi... Io non è che devo fare il difensore d'ufficio del Presidente della provincia, però mi pare doveroso, nel senso che, guardate che quello è sintomatico di cosa voglia dire quando si è eletti e si fa parte delle istituzioni, la leale collaborazione tra organi dello Stato, al di là delle appartenenze, perché quella strada lì nasce regionale, viene trasferita impropriamente la provincia, che vuole ridarla allo Stato, qua devono parlarsi tutti insieme e se deve mettere un milione la regione, non che si arrocchi dietro... Vado, ma è stato chiaro, io ho fatto un discorso al di sopra delle parti, molto semplice Alen, se cade quel ponte muore la gente, ed è tutte le trasmissioni, e l'avventurina è buonissimo perché ha sempre le riunioni con i vari sindaci, se cade quel ponte muore la gente, qualcuno deve pur trovare una soluzione per quel benedetto ponte, indipendentemente dalla parte politica, la provincia, la regione, il sindaco, non lo so, però quel ponte sappiamo tutti che è pericoloso, evitiamo che cada tutto qui. Venturini, inizio con il terzo argomento da lei, la sanità. Allora, il Presidente della Regione Veneto, l'abbiamo detto che la pubblicità indiscutibilmente ha fatto un gran lavoro per quanto riguarda il Covid, perché rispetto alle altre regioni ha fatto dei capolavori indiscutibili. Al di là di questo, la sanità veneta è funzionante, è da sistemare o va bene così, è da migliorare? Cosa mi può dire in merito? E il suo partito cosa deciderà se lei andrà a Venezia in Consiglio? Allora, da amministratore locale, quindi da sindaco, attualmente vice sindaco, e consigliere provinciale, io sto sul territorio, quindi mi piace ascoltare anche cosa dice il cittadino, perché in base a quello poi ci si muove. C'è una questione ad esempio che riguarda l'ospedale di schiavonia e il fatto delle difficoltà che hanno i cittadini in merito all'erogazione delle prestazioni, a livello anche ambulatoriale, per cui le persone che abitano in quella zona della bassa padovana si devono recare anche a chilometri e chilometri di distanza in altre strutture. Ora, di fronte a queste necessità, un intervento che deve essere sicuramente fatto è quello di poter erogare delle prestazioni vicino al luogo di residenza delle persone. Quindi uno degli impegni sicuramente che deve essere preso è quello di permettere un'assistenza che sia il più vicino possibile in merito all'erogazione delle prestazioni al cittadino, perché questo determina delle difficoltà. Allora, nella sanità, che è molto complessa, bisogna intervenire cercando di rendere più possibile al cittadino la facilità nell'accesso delle prestazioni. I punti fondamentali poi rimangono sicuramente le liste d'attesa che bisogna in qualche maniera trovare il modo di ridurle e investire poi nelle borse per quanto riguarda gli specializzanti per permettere una maggiore presenza di personale sanitario. Quindi ci sono dei punti sui quali assolutamente si va ad intervenire. Io dico la materia della sanità, non l'ho mai affrontata in prima persona, può essere entrando in Consiglio regionale un motivo per approfondire e capire meglio come intervenire. Prego Pinto. Mi fa molto piacere che sia stato tirato in ballo all'ospedale di Schiavonia. Sabato scorso io ero presente ad una manifestazione proprio davanti all'ospedale di Schiavonia. C'erano tre o quattrocento persone che hanno perfettamente rispettato il distanziamento sociale, tutte con la mascherina, ma che erano tutte molto arrabbiate per la situazione di quell'ospedale lì. Sembrava tra l'altro un'isola felice o infelice a seconda dei punti di vista dei presenti perché pochissime parlavano bene del nostro governatore. Io ho fatto anche un intervento molto duro, credo. Lì sono stato chiamato come rappresentante del Movimento 5 Stelle e comunque hanno parlato anche di altre espressioni politiche, compresa pochissimi leghisti. Schiavonia è un problema grossissimo e certamente non dipende dal sindaco o dalla provincia, dipende da chi gestisce la sanità, e cioè il governatore Zaia, il quale è bravissima. Il presidente, il governatore. Se parliamo di sanità e parliamo dello specifico ci sono un sacco di problemi, per esempio sulle prenotazioni. Io ho fatto un video l'altro giorno che pubblicheremo in questi giorni nei social, dove finalmente abbiamo trovato delle persone che oltre a dirlo ci hanno messo anche la faccia. Esame importantissimo di una persona anziana richiesto dal medico curante il 27 di luglio, telefonate a vuoto, tante non sono riusciti a prenotare la visita entro un mese perché il medico ha detto che è una cosa urgente, va a fare l'esame ai primi di ottobre. Gravissima questa situazione, l'abbiamo denunciata, la denuncieremo. Però al di là degli episodi locali e specifici, a livello regionale io credo che debba essere assolutamente invertita la rotta, che vuole molto spazio, molti finanziamenti ai privati, assolutamente invertita la rotta e invece investimento massiccio sul pubblico. Cioè torniamo a rispettare gli ospedali pubblici, non chiudiamo corsie, non chiudiamo reparti, non chiudiamo ospedali, anzi facciamo esattamente il contrario. Perché l'emergenza Covid ci ha insegnato che quando c'è qualcosa, non c'è routine. Chi risponde al meglio, con sacrificio, impegno, passione, è la parte pubblica, non le cliniche private. La sanità del Veneto ha retto in momento Covid per alcune buone intuizioni anche del governatore del Veneto. Presidente. Presidente o governatore, insomma, in secondo dei punti di vista, così lo chiamano, li chiamano anche da altre parti con questa terminologia. Presidente della regione del Veneto. Lo dico per onestà intellettuale, però detratte queste due buone intuizioni, il resto è merito di chi sul campo ha operato, medici e infermieri. E soprattutto è merito di un sistema che è nato qua in Veneto 30-40 anni fa, che mette assieme il territorio con l'ospedale, le doppie S, sistema socio-sanitario e non solo sanitario. Noi progressivamente con la riforma fatta 4 anni fa stavamo scivolando verso un sistema che escludeva il territorio. C'è stata una lotta anche bipartisan dei sindaci e anche dei centrodestra che hanno voluto reinserire, ad esempio, il rapporto con il direttore del sociale, che vuol dire parlare insieme con cosa si fa in un distretto, che servizi servono alla cittadinanza. Le liste d'attesa sono infinite, al di là di quello che si vuole dire e soprattutto non è possibile che quando ci sono i meriti siano sempre merito del timoniere e quando le cose van male è colpa del primo dirigente di riferimento. In Veneto, qui in Veneto, dieci giorni fa, a Verona, si è scoperto un gravissimo crimine, dico io, crimine per le famiglie venete, perché negli ultimi due anni 100 bambini nati, che sono il momento in cui c'è la tripidazione della famiglia, di questi 5 sono morti e 9 hanno menemazioni permanenti perché c'era un batterio dentro il rubinetto dell'acqua. In quel caso è colpa anche un po' della sanità e di chi governa la sanità. Bisogna farsi domande e bisogna fare la riforma della riforma nei prossimi 5 anni. Alain? Beh, è chiaro che insomma dopo quello che ci ha detto il collega, insomma, su quello che è successo a Verona, è chiaro che su queste cose qua dobbiamo tutti comunque fare delle riflessioni, quindi stare molto attenti e non abbassare assolutamente la guardia, proprio perché parliamo di esseri umani, poi soprattutto i bambini, le fasce più fragili, i bambini anziani, sono quelle a cui dobbiamo rivolgere la maggiore attenzione su ogni fronte. Anch'io come l'amica, insomma, collega amministratice, ascolto i cittadini e andando molto nelle periferie e nella provincia, quello che anche a me stanno dicendo i cittadini, sono avere la possibilità di avere dei piccoli riferimenti territoriali. Allora, continuare a pensare che la sanità sia quella di 50 anni fa, cioè che ogni paese aveva il suo grande ospedale all'interno, è una follia, cioè la storia ci ha detto che la sanità è un'altra cosa oggi. Molto spesso io sento dire dalle opposizioni che i posti letto sono l'indicatore, il posto letto non è più un indicatore di nulla, cioè oggi le persone devono stare in ospedale il meno possibile, ma perché non fa bene alle persone stare in ospedale, fare lunghe degenze non esistono più. Oggi gli interventi chirurgici si risolvono molto più rapidamente ed è molto meglio e salutare per una persona, trascorrere il tempo a casa piuttosto che dentro un ospedale. Però è vero, vanno rafforzati i servizi territoriali. Io per esempio, sui quartieri popolari dove vivo, sono nata e cresciuto io, e quindi mi sento anche di rappresentare quella fascia di popolazione che è un po' ai margini, la periferia, e mi dicono guarda, io per fare un semplice perlievo del sangue devo andare fino in ospedale, ho 89 anni, non faccio fatica a camminare e raggiungo l'autobus. Quello che vogliono i cittadini sul serio è poter avere dei micro servizi, dei micro laboratori, quindi niente di incredibile, dove ci siano anche dei volontari, perché ci sono degli infermieri che anche in maniera volontaria lo fanno, che fanno le famose punture, la misurazione della pressione, cioè quei piccoli servizi che però oggettivamente oggi, per le fasce più deboli, è difficile raggiungere questi grandi ospedali che sono delle grandissime eccellenze, perché oggi l'eccellenza va purtroppo strutturata in grandi strutture. Dopo vi faccio una domanda diretta perché mi avete risposto un po'. Vanda Pelizzari. Beh, io parto dal presupposto che migliorare c'è sempre da migliorare, però mi riferisco anche ai miei colleghi che mi hanno preceduto, che parlavano del ritardo o della mancata risposta da parte del centro del CUD, le famose prenotazioni. Abbiamo avuto di grossi ritardi, perché anche io ho avuto bisogno di rivolgermi a questo CUP, dovuti al Covid, che erano sovraccarichi di domande, quindi c'è stato un attimo di mal servizio. Però io devo difendere, ma con tutte le mie forze, la sanità padovana. Non dimentichiamo ragazzi che c'è gente che viene da tutta Italia a farsi curare negli ospedali di Padova, quindi diamo anche altro... Stiamo parlando, mi scusi, del Veneto, è noi? Sì, beh, parlo del Veneto, diciamo che Padova è un'eccellenza, diciamo che è un'eccellenza. Era un'eccellenza. No, era, è un'eccellenza. Certo è che quando dobbiamo anche incaricare i medici di base, allora, se devi fare un esame, chiaramente siamo tanti e dobbiamo curarci tutti nel migliore dei modi, se c'è una prenotazione da fare è il medico di base che stabilisce l'urgenza e permettetemi di dirvi che se il medico ritiene che quell'esame che quella persona deve fare è urgente, la persona va dentro. Ci sono i famosi codici. Allora, non è detto che deve aspettare mesi. Deve aspettare mesi se l'esame che viene richiesto non è di particolare gravità. Allora, è inutile dire, ah, devo aspettare due mesi, ah, devo aspettare tre mesi. Poi c'è anche il progetto secondo cui veramente questa responsabilità verrà data ai medici di base. Saranno i medici di base a stabilire la priorità di una certa visita. È inutile dire, ah, mi hanno dato, sì, se devi fare una cosa a me per fare la cateratta e me l'hanno dato dopo quattro mesi, ma tanto io ci vedevo. Però se io avessi avuto un problema all'occhio, gentili signori, mi sarebbe stato dato subito, nel giro di pochi giorni, la prenotazione. Va bene, io non ho capito nulla di quello che avete detto per quanto riguarda la sanità. Quindi faccio una domanda un po' più semplice e la risposta deve essere breve da parte vostra. E ritorno in giro senza il cronometro, lo dico alla regia. Elisa Vantolini, che voto darebbe la sanità veneta da 1 a 10? Sette. Sette. Pinto? La sufficienza sicuramente. Mi dia il voto? Sei e mezzo. Sei e mezzo. Bisatto? Secondo me è improprio detta così, comunque sei e mezzo anche per me. Però va spiegato. No, sei e mezzo, ho capito, però è comprensibile che dare la sufficienza. È chiaro che è tutto relativo nella vita, se lo paragono a qualcos'altro... Ho chiesto il voto solo. Il voto? Io ho visto tanta sanità nel mondo, quindi direi 9. Anch'io mi associo, 9 e più. 9 e più, va bene. Detto questo invece, Pinto, cominciamo con la prossima tematica, e qui ovviamente riparte il tempo. E' venuto il Covid, è venuto una crisi per quanto riguarda il lavoro davvero incredibile. C'è l'e-commerce che sta distruggendo il commercio in tutto il mondo, non solo le città. Mi viene da ridere quando sento chiudono i negozi, e sta chiudendo in tutto il mondo, tu vai a Londra e è chiuso. Ci chiudono tutti perché ovviamente sta cambiando il commercio. Come affronterà, se ne dovesse andare al governo con il suo partito, la nostra regione, per far sì che il nostro territorio inizi ad avere ed essere proficuo nel lavoro? Guardi, lei mi fa una domanda che mi fa davvero piacere poter rispondere, perché ogni candidato poi sceglie, diciamo, delle tematiche. Io ne ho scelti tre e due riguardano il mondo del commercio e il mondo dell'edilizia, che sono mondi, dal punto di vista imprenditoriale, che creano occupazione, che creano ricchezza e che creano un indotto enorme. Il mondo dell'edilizia, io ricordo che la Regione Veneto è la regione più cementificata d'Italia. Lo certifica il rapporto ISPRA da tre anni a questa parte. Ma il mondo dell'edilizia è fondamentale per l'economia e credo che la Regione Veneto debba intervenire massicciamente dal punto di vista dello stimolo e dell'economia per aiutare quello che già il governo italiano, per incentivare, per aumentare, diciamo, quello che già il governo italiano ha fatto come decisione e sta partendo, e cioè l'ecobonus. Basta cementificazione, però tanta tantissima riqualificazione, dai capannoni abbandonati, dagli appartamenti, dai condomini. Con l'ecobonus 110%, adesso c'è poco tempo, non lo spiego, ma insomma credo moltissimi cittadini sanno già di cosa si parla. A costo zero praticamente è possibile riqualificare l'esistente e questo fa ripartire un mondo che da parecchio tempo è in difficoltà. Il mondo del commercio mi appartiene anche a livello familiare. E' vero che l'e-commerce è il futuro e che sta intervenendo in maniera determinante in quello che è il cambiamento del commercio, ma è anche vero che la politica commerciale è della Regione Veneto ed è anche vero che assistiamo negli ultimi anni ad una incentivazione, ad un aiuto, ad una... Cioè i centri commerciali, i supermercati nascono come funghi. Ormai in ogni paese importante dove c'è una rotonda abbiamo un supermercato. Questo significa desertificazione del piccolo commercio. Il piccolo commercio sono famiglie, sono collaboratori familiari, sono stipendi diciamo, sono partite IVA. Lì c'è tanta occupazione. Quindi io non capisco perché la Regione Veneto stimoli la grande distribuzione, che è bulimica, ma che di fatto dal punto di vista dei posti di lavoro spesso offre part-time, offre a persone che oggi devono andare su un posto, poi il giorno dopo devono arrecarsi a 30 km e non incentivi infine il piccolo commercio. Esatto, per quanto riguarda il lavoro, il lavoro... Che è importantissimo che dovessi associare. Poi anche, e poi ritorniamo anche alla Vanda Perizzari, che è una che fa le battaglie per i negozi in centro, che io condivido poi, che dovrebbero lavorare tutti, però non è colpa di nessuno, ma è colpa dell'e-commerce soprattutto. E quindi io credo che tra poco il commercio davvero sparirà quasi completamente, tranne per chi avrà delle specialità nelle proprie attività. E quindi cosa farà il Veneto se il suo leader Lorenzoni dovesse governare questa Regione per quanto riguarda il lavoro, il commercio e tant'altro? Beh, prima di tutto va detto che è un tema sovra-regionale. Quindi serve un intervento addirittura a livello di Unione Europea per tassare dei grandissimi player tipo Amazon, che di fatto sconfinano di territorio in territorio e non pagano le tasse da nessuna parte. Quindi serve una tassazione per riequilibrare il sistema. Sì, che poi Amazon è il leader, ma ce ne sono molti altri a seguire. Sì, ma infatti Amazon è il riferimento. Ma è per dire che se su quel caso lì tu porti il... sei in un paradiso fiscale o comunque in un'azione che ha una tassazione bassa e poi di fatto fai il trader dappertutto... Però mi scusi, mi sento, poi le do il tempo recupero, perché su Amazon ho ragionamento da fare. Oggi tu vai in cento negozetti in centro, gli chiedi un qualsiasi articolo e ti dicono, noi non ce l'abbiamo, devi prenderlo da Amazon. No, no, ma attenzione io no. Cioè, ci dicono loro di prenderlo da Amazon. E mi chiedo, andando avanti così, per forza, santo Dio, i commercianti spariranno. Io non sono contro il fatto che, come dire, se l'opinione pubblica ha ritenuto che quello sia strumento più veloce e diretto per comprarsi lo zainetto perché ti arriva a casa. Questo è incontestabile, solo che la politica deve accorgersi del fenomeno e deve guidarlo, non lasciare che sia il mercato a fare quello che vuole. E quindi un'eventuale tassazione generalizzata a livello di Unione Europea determinerebbe un riequilibrio perché avresti delle risorse che a quel punto, anche a livello regionale, puoi rimettere in sesto per i distretti del commercio, per dare incentivi al piccolo negozio di vicinato, ma soprattutto una cosa che la Regione del Veneto può fare da domani mattina è una nuova legge per il commercio. E quindi, ad esempio, tornando agli aspetti dell'apertura non solo delle aree commerciali, come le legacy centri commerciali, ma anche le famose licenze sotto i 1500 metri quadri, a sto punto serve una regolamentazione. Cioè non può essere più possibile che queste sfuggano totalmente a una regola per cui tutti quanti chiedono 1499 metri quadri di vendita. Sì, per poi due anni dopo. Però vi spiego, per dover di cronaca, quando date queste informazioni dovete essere... Sì, sì. Sotto i 1500 metri quadri uno può aprire qualsiasi attività, giusto? Però non dipende né dal sindaco, perché tra l'unico accusano il sindaco, né tanto meno la Regione. È quello che sto dicendo? Dipende da Roma. Ma no, 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 caro direttore. No, no, no. La legge regionale adesso dice che sotto i 1500 non serve l'autorizzazione regionale. Io dico che serve una nuova legge regionale che dica anche che sotto i 1500 un becco ce lo possa dire, almeno mettere, almeno il sindaco del territorio. Perché altrimenti qua è la devastazione, c'è l'attacco scriteriato. Io non ho nulla contro la GDO. Ma va regolamentata? No, non può fare nulla a Pelizzari. Deve informarsi bene anche lei. Il sindaco non può fare nulla. Lo so, è quello che dico io. Legge regionale. Non può fare nulla il sindaco. Sento dire, ma il sindaco permette... Può solo contrastare. Non può fare nulla sotto i 1500. Vanda Pelizzari, deve informarsi bene. Non può fare nulla sotto i 1500. Per me neanche la Regione Roma che deve fare questa decisione. Però il sindaco, qualsiasi sindaco, l'Aventurini, il sindaco e il buon bisatto sono sindaci, se un'attività sotto i 1500 metri viene aperta nei loro comuni, i sindaci non possono fare... Prendono atto. Brava, prendono atto. Lo abbiamo sempre parlato in questo perché se diciamo che è colpa del sindaco non hanno nessuna colpa loro. Si possono chiedere solo alcune modifiche legate alla viabilità in quanto magari si sente su un'area quindi possono chiedere la rotonda piuttosto che... Era per precisare per i telespettatori che sento accusare. I sindaci tutti in generale che viene aperto sotto i 1500 metri non è colpa dei vari sindaci quindi né di Bisato, né della Venturini di sindaco, né di Alenzi di venta sindaco né della Pelizzani. Stiamo parlando di politica regionale però non di politica comunale cioè trovo corretto l'osservazione che c'è abitato. Noi parliamo di quello regionale. Allora sul commercio. Io sono praticamente uno dei pochissimi candidati in tutte le liste di tutti i partiti che è un piccolo commerciante. Anch'io. Quindi i piccoli commercianti sanno esattamente di cosa c'è bisogno. Io da piccolo commerciante non ho paura di Amazon tanto per capirci perché do un certo tipo di servizio che mi contraddistingue rispetto a Amazon che semplicemente ti manda il pacchetto a casa. Quello che il commercio ha bisogno oggi Non tutti possono fare questo. E di regole. Certo, non tutti. Però tutti possono fare la differenza. Ogni tipo di commercio può proporre soluzioni molto più rapide anche di Amazon. Nel periodo Covid ad esempio tanto per capirci io ho lavorato il doppio rispetto a prima perché mi sono attivato immediatamente quello che un grande colosso non riesce a fare perché ha dei tempi sicuramente diversi infatti Amazon a un certo punto andò in blocco e non consegnava più niente io invece ero sul territorio ero presente, presentissimo Per quello faccio una battuta di vita No, per quello faccio una battuta un po' stromatizzante è diventato ricco. Sì, è diventato ricco. No, perché poi guarda c'è anche l'aspetto sociale perché quando sei in un territorio era una battuta. No, no, ma tenendo conto anche della situazione di cosa sta accadendo attorno noi piccoli siamo in grado anche di dire beh, senti, su questa cosa qua si guadagna molto meno perché la situazione è grave, gravissima tanto per capire Amazon al prezzo imposto è quello lasciamo stare poi il discorso dei grandi, dei grandi di questi grandi potenti come di Cilice Abitano Cosa fa se diventa... Guardi, è semplicissimo la soluzione proprio perché sono uno dei pochissimi commercianti e se avrò l'onore di andare in quel Consiglio regionale le politiche attive che vanno fatte sono altrettanto come sono state fatte per tutti gli altri settori finanziamenti a fondo perduto sostegni per l'affitto una delle più grandi voci che incide per i piccoli negozi e che chiudono è l'affitto se io non ho l'affitto da pagare sono a posto dei fondi di garanzia regionali per cui uno si acquista il bene si acquista il negozio perché l'affitto io vado proprio al punto delle situazioni sulle bollette tutte le addizionali regionali eccetera per le micro realtà familiari dobbiamo riuscire ad arrivare di renderle zero zero assoluto perché così possiamo sostenere veramente il piccolo commercio e gli ambulanti ad esempio che sono sempre dimenticati da tutti commercio lei vanda a pelizzari un minuto e mezzo lei vanda a pelizzari su commercio dovrebbe non avere allora io sa che faccio parte dei piccoli commercianti aspetti un attimo lei vanda a pelizzari è una piccola commerciante è una che battaglia ovviamente per come giusto sia perché le attività abbiano una continuità di guadagno di vita di lavoro però ovviamente per tutto quello che abbiamo detto e per colpa non sicuramente la situazione nel commercio e nel lavoro è questo cosa farà se andrà a governare la nostra regione la nostra amica vanda pelizzari beh innanzitutto innanzitutto parliamo soprattutto della città ma soprattutto dei centri storici perché i centri storici sono il biglietto da visita che noi offriamo ai visitatori che vengono ecco il nostro centro storico parlo del mio ma parlo anche di tante altre città il centro storico di Pado è diventato ormai un deserto è un deserto perché nascono come diceva lei prima giustamente molti supermercati al di sotto dei 1500 metri che non è colpa di nessuno però se noi cercassimo faccio la mia proposta cercassimo di portare questi supermercati contro l'apertura delle quali non possiamo fare nulla magari al di fuori del centro storico ma noi dobbiamo far venire la gente in centro storico direttore perché la gente non viene perché c'è una politica sbagliata allora il centro storico bello chiuso ma dobbiamo cercare di fare dei parcheggi al limite della città che permetta alla gente di venire però è chiaro che va ai centri commerciali perché c'è il garage perché c'è il posto auto e allora noi stiamo chiudendo il nostro centro storico che sta diventando veramente un deserto perché io ho portato tante volte anche emittenti della sua operatori della sua emittente in giro per il centro storico diventano parcheggi diventano garage e quando si chiude una serranda quando si chiude la serranda di un negozio per sempre lì c'è buio e c'è criminalità e questo è diventato il centro storico questo è inammissibile allora noi vogliamo creare la possibilità che ognuno possa usare l'auto perché il monopattino è bello perché la bicicletta è bella ma io non vengo in bicicletta e molti non vengono in bicicletta all'intorno della città ci devono essere i parcheggi in modo che la gente possa venire è stata chiara vado a penicciare è stata chiara però le posso dare come dato che è un dato significativo che anche i grandi centri commerciali tra poco mi lasci finire diventeranno cattedrali sul deserto quindi ce ne sono lei sta parlando ovviamente di Padova io parlo a livello veneto e anche a livello nazionale perché abbiamo i dati i centri commerciali la maggior parte non funzionano più per via dell'e-commerce non di via delle auto no per via dell'e-commerce perché mentre prima i centri commerciali erano pieni di automobili che parcheggiavano c'erano parcheggi oggi l'e-commerce ha stravolto il mondo ha stravolto il commercio e quindi anche i vari centri commerciali quelle cattedrali che noi vediamo e che tanti perché le dico qui vicino vicino a Padova Est dovevano essere costruiti due centri commerciali delle precedenti amministrazioni dal centro-destra dalla destra e poi da Zanonato concessi e oggi qualsiasi sindaco che dovesse andare a governare la città di Padova che sia di destra che sia di sinistra non può non permettere ai proprietari di costruirlo ed è responsabilità dei renti centri però gli stessi non li costruiscono più perché oggi non c'è più rego non c'è più guadagno perché per rientrare da una costruzione del centro commerciale ci vogliono 20 anni e oggi non c'è più e quindi anche i centri commerciali diventano io non credo sia il parcheggio vanno a pericare credo sia proprio da cambiare il commercio perché il mondo sta cambiando e bisogna fare qualcos'altro oltre ai parcheggi che è bello che la città sia viva e sono d'accordo con lei per la sicurezza Venturini ho fatto una parte un po' perché sento dei ragionamenti che vivendo le città anche a me dispiace vedere Padova vuota Venezia vuota Treviso non solo Padova tutte sono così però è cambiato il mondo e quindi dobbiamo ragionare da un mio modesto punto di vista sotto un'altra ottica per farle rivivere queste città e non so come però dovete dirmelo voi Prego Venturini Infatti condivido ad esempio leggevo durante il periodo di chiusura che abbiamo avuto che i negozi di vicinato hanno subito una sorta di di rivincita nel senso che c'era maggiore affluenza di persone però finito il periodo della chiusura poi le persone hanno continuato magari a ricorrere al commercio comunque ad andare nei centri commerciali nelle grandi realtà e questo per dire che cosa che finché c'è l'imposizione magari noi possiamo dire al cittadino di andare nel piccolo negozio dopodiché prevale la comodità prevale l'organizzazione familiare e quindi è evidente che andare contro l'onda dell'e-commerce quindi della vendita per cui ti portano a casa il prodotto diventa difficile perché poi la nostra vita che è una vita dinamica è organizzata in base alle offerte che ci vengono date quello che magari bisognerebbe cercare di fare è anche di non con gli interventi normativi andare ad incidere negativamente poi sul commercio sto parlando ad esempio dello smart working adesso il governo ha adottato e adotterà dei provvedimenti per incentivare ulteriormente lo smart working questo se voi andate in alcune zone anche di Padova vedete quanto stanno soffrendo anche i piccoli esercizi proprio perché non ci sono persone più che frequentano bar e ristoranti cosa voglio dire va benissimo lo smart working perché è una nuova organizzazione ma non può imporla allo Stato deve avvenire a livello aziendale tenendo conto di quello che succederà poi sul territorio quindi i provvedimenti che noi dovremo adottare anche in futuro devono essere sempre ponderati per le conseguenze che possono produrre e poi per dare delle soluzioni bisogna in realtà intervenire nella formazione perché dicono che nel 2050 metà dei lavori che si stanno facendo adesso non esisteranno più quindi noi dovremo essere pronti ad affrontare quello che arriverà prima della pubblicità vorrei fare un discorso che vada di fuori della politica così ve lo dico l'altra sera parlo subito con Alen ha convinto se siete appassionati di calcio ho sentito Gagliani in un'intervista molto interessante allora gli ha sentato chiesto il calcio in particolar modo perché funziona o no e lui ha risposto ha detto il calcio ha un mercato e nel mercato il calcio più visto in Europa e nel mondo è il calcio spagnolo poi l'italiano e l'ultimo l'inglese a un certo punto gli ha detto come mai allora il calcio inglese i diritti costano di più allora i diritti per acquistarli del calcio spagnolo costano un miliardo del calcio italiano un miliardo e mezzo del calcio inglese della Premier League oltre i 3 miliardi e mezzo la domanda è perché il calcio inglese vale 3 miliardi e mezzo e dà meno ascolti di quello spagnolo e quello italiano lui ha dato una risposta mi dà avete un'idea perché perché secondo lei Alen perché perché lo sanno vendere meglio no non è questa la risposta la risposta la dico perché poi non c'entra il tema era proprio nel ragionamento che faceva perché è la lingua la lingua inglese che nel mondo è quella più parlata dà un valore aggiunto triplicato rispetto alle altre lingue lo spagnolo e l'italiano la domanda in virtù di questo dico anche noi possiamo avere qualche idea che possa essere prevaricare un po' le altre come hanno gli inglesi questo fattispecie perché hanno la lingua più parlata punto di domanda ma anche su questo non è vero cioè la lingua più parlata non è l'inglese ma sono stati così bravi loro a farci credere che è la più parlata vado in pubblicità che impariamo tutti a parlare l'inglese però in realtà è la spagnola guardate non è una cosa mia non è una cosa mia detta da un esperto che conosce il mondo il valore aggiunto è la lingua tutto qui a tra poco ed è posto